essere intervenuti. Buonasera Gaia. Buonasera. Io sono particolarmente onorata di poter parlare di questo libro perché è un libro che mi ha colpito tantissimo. Soltanto due parole su di lei Gaia. Lei è scrittrice, giornalista, pitrice e nasce all'epoca delle leggi razziali. È stata insegnita anche del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica dal Presidente Pertini e nel 2013 e dal 2013 commendatore al merito della Repubblica. Insomma una personalità eclettica. Il suo romanzo è speciale, speciale perché rientra in quell'ambito di saghe familiari che nella letteratura ebraica, pensiamo anche solo alla famiglia Karnoski di Israel Singer, hanno trovato ampio spazio. Giudei accoglie il lettore già con una bellissima copertina. È una copertina che richiama un particolare di un quadro, l'Odeon, del 1919 di un pittore, Anselmo Bucci e qui già si manifesta che poi Giudite ne parlerà il suo amore per l'arte. Di cosa parla Giudei? Giudei ci introduce intanto in una storia familiare, due famiglie, i Foa e i Levi. Questo romanzo però ha molti riferimenti alla sua storia familiare che adesso poi andremo un po' a scoprire. E fra l'altro appunto questi riferimenti si colgono molto bene e per chi vuole leggere, e sono sicura che saranno in tanti, raccogliamo le vele, la sua bella autobiografia. Chi sono i Foa? I Foa sono una famiglia che vive a Torino, una famiglia che ha fieri sostenitori dei Savoia, Filosabaudi, con un capostipite, Moisefoa, che è maggiore, generale, e i suoi eredi, Filiberto, Elia, Sara. È una personalità senz'altro molto intrigante, questo maggiore. I Levi invece sono una famiglia molto aperta, laica, che hanno uno sguardo rivolto al futuro, insomma. Amanti della musica, dei libri, hanno uno spirito libero. Mentre i Foa vivono a Torino, i Levi vivono nelle Marche e ogni tanto si recano anche a Torrette. Una famiglia piena di personaggi. Questi personaggi veicolano in tutto il romanzo nell'arco di un secolo. Quindi noi qui abbiamo non un solo un romanzo, abbiamo un libro di storia. Un libro di storia perché partendo dal 1903, con un episodio veramente molto ironico e realmente accaduto, in cui abbiamo due protagonisti, Samuele e Zaccaria, due cugini, che incontrano niente po' di meno che Puccini. Sono personaggi amanti della musica e quindi questo incontro è particolarmente accattivante per loro, anche se Puccini si trova sotto la sua isotta perché ha avuto un incidente. Mentre uno dei due personaggi, Samuele, va in cerca di aiuto, Puccini purtroppo si lascia andare a alcune espressioni antisemite che però di cui si pentirà molto perché diventerà amico di questi due personaggi. Noi seguiamo le vicende di queste due famiglie nell'arco di un secolo. Quindi affrontiamo la prima guerra mondiale, dove uno dei personaggi purtroppo perde la vita. Abbiamo le leggi razziali, i bombardamenti e poi c'è il dopoguerra. Il dopoguerra che, devo dire, lei Gaia ritrae in una maniera magnifica. Ci si ritrova immersi in questo contesto che magari abbiamo un po', io non ho vissuto, hanno vissuto i miei genitori e quindi ho ritrovato delle storie che sentivo raccontare dai miei genitori e che mi hanno veramente molto, molto intrigato. Ecco, una cosa che noto moltissimo di questo romanzo è il diverso registro che lei utilizza nel dare voce a questi personaggi. Perché? Perché ci sono tante voci narranti, non c'è un narratore solo, sono in tanti, ma lei ha una capacità speciale che hanno pochi scrittori di parlare con la voce del personaggio. Quindi c'è il personaggio più colto, c'è il bambino, c'è il ragazzino, c'è l'adolescente, si cala in una maniera magnifica nel personaggio. Ecco, noi dicevamo, non voglio fare troppo spoiler di questo romanzo perché le vicende sono tante, la trama è veramente avvincente ed è bello che poi le persone se lo gustino e se lo leggano. Ecco, io ho notato appunto questa pluralità di voci e in modo particolare c'è un personaggio che mi ha catturato tanto che è Aaron e questa capacità di parlare a più voci offre al lettore la possibilità di ascoltare questo racconto da prospettive diverse ed è una cosa molto bella. Dicevo all'inizio che ha molti riferimenti alla sua vita familiare. Ecco, io mi sono chiesta leggendo, anche se poi devo confessare che adesso che sto affrontando la sua biografia un po' lo so, però penso che per chi ci ascolta sarà bello saperlo. Mi sono chiesta, fra queste due famiglie, i Foa che sono più tradizionalisti, una famiglia più, diciamo, come si può dire, molto filosabaudi, ecco, però meno laici. Ovviamente invece i Levi sono molto laici, che non sanno, cioè sono anche distanti dalle regole religiose. Ecco, la sua famiglia Gaia era più vicina ai Foa o più vicina ai Levi? Guardi, io per esempio la famiglia paterna di mio nonno, che tra l'altro si chiamava Cavour, perché i genitori di Cavour e di Italia, sua sorella, erano ovviamente degli entusiasti italiani che volevano un'Italia unita e che hanno dato tanto in effetti per unificare, per vedere un'Italia migliore e unificata e diciamo soprattutto libera dal gioco della chiesa che era molto forte lì in Ancona e nelle Marche. Beh, questo nonno Cavour era veramente amico di Turati, questa è una cosa, io non l'ho mai conosciuto, nonno Cavour, mi ha sempre affascinato e papà mi raccontava questo suo sfegatato amore per i figli, direi che proprio era innamorato dei suoi figli, che è una cosa che, non voglio dire molto ebraica, ma c'è questo legame familiare fortissimo. Ecco, devo dire che è la famiglia marchigiana che sento più vicina naturalmente, anche perché più bohème diciamo e anche perché le Marche mi piacciono moltissimo, c'è qualcosa nelle Marche di molto depulito, di onesto, un'Ancona dimenticata un po' da tutti, questo porto, ma era una bella famiglia, ecco. Bene, bene. Zaccaria e Rebecca si sposano e quindi queste due famiglie si uniscono, si uniscono perché il Maggiore Generale Moisè era terrorizzato all'idea che la figlia potesse sposare un Goi, quindi è ben contento di poterla casare con Zaccaria Levi, che peraltro è anche una persona diciamo facoltosa, ecco. Nascono tanti figli, Cielo, Michelangelo, Ariel, Miranda, Miriam, Prospero e ognuno di loro affronta la vita cogliendo le determinate opportunità, affrontando le difficoltà, eccetera. Ecco, in questi nomi letterari, perché per esempio Cielo ricorda Cielo d'Alcamo, uno dei primi poeti italiani alla corte di Federico II di Savoia, no? Quindi ci sono questi bellissimi nomi letterari. È vero che sono, ho pensato, forse sono un omaggio ai nomi dei figli di suo nonno paterno Cavour? No, sono, le dirò, intanto c'è proprio diciamo uno scherzo tra me e lui, che non ho mai conosciuto, che non voleva metterci solo nomi biblici. Poi c'è l'amore sfegatato di tutta la famiglia da sempre per Michelangelo, anche se devo dire il ragazzo Michelangelo poi tradirà un po' diventando un americano diciamo troppo attento ai soldi, troppo attento al successo, perché anche c'è quello che ognuno di loro nel dopoguerra dà per conto proprio e ognuno deve seguire delle strade che portano a delle altre diaspore. Ma i nomi anche, naturalmente Shakespeare mi piace moltissimo, quindi Prospero, Ariel, sono nomi naturalmente di una delle cose le più belle che ha scritto Shakespeare. Poi per me Shakespeare è una specie di fratello gemello di Verdi, ci sarà della gente che trema a questa mia dichiarazione, sono due, tanto Verdi che Shakespeare io li sposerei domani, anzi oggi, credo due rompiscatole tremendi, ma sono gente fantastica devo dire. Verdi poi ha detto tutto, poi ci tocca l'anima proprio e Shakespeare anche, anche con le sue ambiguità e anche questo, tornando al libro, anche qui ci sono tante ambiguità nei personaggi perché ognuno di noi è fatto di ambiguità, cambia con gli eventi, con la storia. Gaia, vorrei interropperti perché parlando del tuo libro con Yehudit, lei ha fatto una classifica che riguarda un po' i vari modi di raccontare gli ebrei, partendo da un titolo che abitualmente fa paura. Chi è che dice ancora giudei? Sì, lo dicono persone che non sanno nemmeno quello che pensano, però vorrei che Yehudit, che ha fatto questa distinzione tra i vari modi di essere ebrei nel tuo libro, come fosse una classifica, ci raccontasse con un paragone con gli ebrei di oggi. Gli ebrei di oggi è quelli che tu racconti nel tuo libro. Yehudit, hai voglia di... Buonasera Gaia, sono felice di essere qui e volevo porterle questa domanda. Il libro si divide in cinque parti, ognuna ha nel titolo un riferimento a quel fil rouge che essere ebrei. Quindi la prima parte si intitola gli ebrei, la seconda i giudei, la terza i nessuno, la quarta il silenzio e la quinta israeliti. Quale di questi titoli userebbe alla luce dell'antisemitismo e conseguente antisionismo nei confronti degli ebrei europei oggi? Oddio, che domanda difficile, perché naturalmente queste divisioni sono storiche. I giudei, quando arrivano le leggi razziali che fanno degli ebrei una razza nemica, odiosa, da condannare e poi addirittura da sterminare, in nessuno è la reazione, diciamo, e anche il silenzio. Un po' la vergogna degli altri e la vergogna anche degli ebrei che si è stati tali vittime. Gli israeliti, forse è quella che più potrebbe assomigliare, perché gli israeliti è un po' un modo, diciamo, un po' poco... Teutrale, forse. Sì, anche quei signori che bevano lo champagne col ditino così, cioè tutti così, che non vogliono dire la parola troppo pesante che è ebrei. Io ancora lo sento quando qualcuno dice, sai, quello è ebreo, c'è qualcosa di pesante, sai, anche quello è israelita, c'è qualcosa di finto grazioso, di finto... E certo che purtroppo, per strale ragioni, ma no, per ragioni che ben sappiamo, in Europa rimane una scia di antisemitismo, persino in Inghilterra, dove, devo dire, una volta c'era pochissimo. Anzi, io direi che proprio... Mi ricordo, parlavo con Isaiah Berlin, che era il filosofo naturalmente ebreo, non israelita, veramente ebreo, e lui diceva, no, gli inglesi non sono antisemiti. Ci sono ovviamente i cretini che sono anti questo, anti quello, anche perché si detestano se stessi, quindi detestano tutti gli altri, e detestano le persone che cercano di farcela, le persone che cercano di sopravvivere. E quello è un peccato mortale degli ebrei, hanno cercato di sopravvivere e ci sono riusciti. A me piacerebbe sentirti anche raccontare, non dico delle parti minori del tuo libro, ma anche di vita tua personale. Quando tu venivi spesso a Torino e ci vedevamo a fare due passi... Angelo è un amico di cent'anni. Avevamo fatto tutto un discorso molto interessante sul rapporto tra te, la Shoah, la tua famiglia, chi è morto a Auschwitz, e tu mi avevi detto, tu pensa che stanno facendo anche a Torino le pietre d'inciampo. e hanno chiesto a me di pagare i lavori, l'acquisto delle pietre d'inciampo dal suo inventore tedesco, ma non è il comune che deve fare questo ricordo, perché sono state le autorità istituzionali a favorire la caccia e all'uccisione degli ebrei anche in Italia. E come? E come. E tu eri rimasta indignata e mi era piaciuta talmente la tua indignazione, perché in genere gli ebrei, basta, polemiche, dobbiamo vivere, no? Non esageriamo. Sì, è vero. Io di fatto mi sono rifiutata di andare alla... Ho pagato perché la famiglia, ci siamo divisi tutti la quota. Io, ovviamente, era una cosa, diciamo, simbolica, che fosse la città di Torino, oppure la regione, ma la città di Torino, a pagare, ordinare questa cosa, tra l'altro fatta da un tedesco che ci guadagna pure. Mi ha offeso quello, mi ha proprio offeso. E poi pare che ci sono andati i miei figli, un figlio ci ha messo dei fiori, abbiamo diviso il costo, l'abbiamo pagato, ma devo dire, io ho detto no, io non ci vengo, proprio non ci vengo per protesta. Alcune sono venute anche delle cugine dell'America, eccetera, eccetera. Come se fosse questa cosa. Intanto già il nome non mi piace, di inciampo. Ma che inciampo d'Egitto? Quella era una pietra per la condanna a morte di gente innocente, per nessuna ragione. E lì, devo dire, mi viene in mente che perlomeno in Francia, altra nazione estremamente antisemita, però perlomeno ci sono delle lapidi messe lì dalla città di Parigi. Infatti io la cito una a Parigi che, tra l'altro, io vedevo sempre un piccolo, un asilo a Montmartre, dove portarono via, mi sembra, 47 bimbetti e le tornarono 5 o 6. C'è una bella lapide lì, semplice, ma che tutti leggiamo, ed è la città di Parigi che l'avesse. Ma io vorrei chiederti una cosa, poi non faccio più domande, lascio invece a Giorgia e Udita. Per esempio, sull'importanza della musica nella tua formazione. Mi sembra quasi che quando parli o scrivi di qualche argomento che ti coinvolge moltissimo, per esempio la musica, dimentichi forse un po' certi compositori, che tu vai fino a Bayreuth a sentirli. Penso che tu non guardi alle vite private, come è successo anche ad altre personalità ebraiche dagli anni Trenta fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Li perdoni un po', mi sembra che andando a sentire in maniera estetizzante la musica che hanno composto, che potrà piacere. A Woody Allen no, perché ti ricordavo che lui ha detto quando sento Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia, ma questa è una battuta intelligente. Però tu invece, quando ascolti una musica che ti piace molto, non vai a vedere la vita privata di chi l'ha composta. Quanto ha influito la musica nella tua vita personale? Intanto una cosa che bisogna guardare in faccia, la musica è una parte importantissima del mondo ebraico. Grandissimi esecutori, sono sempre stati gli ebrei, quasi violinisti, ebrei fantastici, quasi tutti gli ebrei, compresi i miei figli, studiano musica. È anche un'espressione quasi unica, diciamo, dell'anima ebraica. E poi secondo me non bisogna, anche il povero Mendelssohn, che l'hanno fatto più o meno, se è diventato cattolico, se no non riusciva a farcela, questo grandissimo, grandissimo compositore. Ora io quando penso a Mendelssohn, non penso, oddio, questo è un ebreo che si è convertito, o Wagner, sì. Devo dire che Wagner, quando sento il pezzo alle valchirie, quello non lo voglio mai sentire e se sono alla radio spengo, perché naturalmente era... Questa è una bella cosa, mi fa piacere sentire la musica. No, perché era la musica che questi poveracci venivano spinti dentro le camere a gas. Ma Wagner è un'altra cosa. Secondo me non lo spiego bene. Wagner sono concetti, è un compositore di concetti. Difatti, secondo me, Wagner, non si può dire, mi ricordo una volta parlando, io sono molto amica di, secondo me, un direttore d'orchestra fantastico, Antonio Pappano, e c'era uno che gli ha chiesto, ma lei preferisce Wagner o Verdi? E giustamente lui ha detto, ma come fai a dire delle cose del genere? Come dire, non so che colore preferisci, ci sono due colori molto diversi e due passioni molto diverse, ma non voglio difendere il mio amore per Wagner e devo dire tanto più che io dico a Bayreuth, metà di Bayreuth sono delle signore naziste tremende, l'altra metà tutti ebrei. Ecco, qui ci sono due, con te fa tre, ma due donne che sono molto coinvolte, interessate alla tua opinione su tutto quello che riguarda la donna, la donna come mondo, come cambiamento. Ecco, allora volevo, sempre perché abbiamo discusso sul tuo libro, allora mi sarebbe piaciuto che io udite, Giorgia, su alcuni argomenti, ti facessero qualche domanda, perché il tuo libro è talmente pieno di argomenti, argomenti, e poi qui dico solo una cosa, che uno non deve aspettarsi una biografia lunghissima, noiosa, tu fai dei capitoli, tantissimi di una pagina, una pagina e mezza, è quasi un diario quello che tu hai fatto, che si legge in un modo meraviglioso. Sono tante voci, sì. Ecco, tante voci. Allora volevo chiedere a Giorgia, se Giorgia ha detto molte cose sul cibo, per esempio, e poi Giorgia sulle donne. Ecco, dite qualcosa a voi, perché preferisco ascoltarle, le donne. Prego, Giuditte, inizia pure tu. Io ho amato molto la storia dell'arte italiana raccontata dallo zio Filiberto e i Lippotini. Lo stile fittorico italiano lo vedi bene proprio qui a Parma, è diviso in stile morbido, burroso, e stile secco, pulito. Tutte e due scuole importantissime, dettate dalla meravigliosa arte culinaria del nostro paese. Per esempio, Correggio appartiene alla civiltà del burro. Di fatto, a Parma, tutto è cucinato col burro, che viene mandato in quantità eccessive, che poi fanno male al fegato. Leonardo da Vinci e Michelangelo, invece, appartengono alla civiltà dell'olio d'oliva e anche il pontormo, la linea è pulita, il fegato è salvo, come leggiamo nel suo diario. Ma il parmigianino fa eccezione, è olio. Chi ha avuto un ruolo predominante nella sua educazione artistica, Gaia? Guardi, ho avuto la fortuna di avere un padre straordinario. Quando non ci avevamo una lira, non c'avevano una lira, ci portava in giro, mi ricordo, ma Mantova vuota, il palazzo ducale senza risultare, un gello, non c'era mai nessuno. Ci raccontava la storia guardando gli affreschi del Mantegna, per esempio, quello lì è Federico, vedi quello è consigliere, delle volte si inventava, ma erano bellissimi. Cioè, lui era innamorato del rinascimento e anche era molto bravo, era uno studioso, era veramente studioso. Poi, devo dire, sono stata molto amica di Federico Zeri, che l'ho trovato sempre matto come un cavallo, adorabile, coltissimo e intelligente. Poi, mio primo marito era, aveva lavorato per Berenson, quindi anche avevamo questo, però, mio primo marito era molto sorpreso che io parlassi del Brunelleschi e di cose, quando, specialmente 30, no, che dico, 50-60 anni fa, qui in Inghilterra, le ragazze Brunelleschi, non si potevano neanche chi fosse, e fosse neanche adesso, ne dirò purtroppo. Ma la storia dell'arte, mi ricordo, chiesi un'altra persona che se Dio vuole diventò mio amico, anche lui ebreo, Gombridge, Ernst Gombridge, gli chiesi ma che cos'è la storia dell'arte? Cosa vuol dire storia dell'arte? E lui ci pensò un po', ci pensò molto, e mi disse la cosa più intelligente che ho mai sentito, la storia dell'arte è storia, è la storia, ed è vero. La storia dell'arte ci dipinge i momenti più neri, ecco, per esempio, mi viene in testa il rosso fiorentino quando scappa da Roma dopo il sacco di Roma che fa due pitture, una è più bella dell'altra con dei mostri neri, diventa, anche lui un pittore meraviglioso. Poi devo dire, cosa ha dato l'Italia? L'Italia ha dato sulla storia dell'arte dove si intrecciano architettura, storia, letteratura. Pensi cos'è stato, per esempio, la meraviglia della nostra letteratura. Questa è una nata dantesca, ma da Dante c'è tutto. Ecco, per esempio, mio padre lo sapeva quasi tutto a memoria, soprattutto la Divina Commedia, e ci faceva anche un po' sorridere, perché non ne potevamo più di questo. Petrarca e Dante. Petrarca e io sono meno amica, ma Dante, devo dire, è fantastico. Tu e le donne, o tu e la donna, magari un piccolo dialogo tra te e Giorgia per capire come tu vivi un argomento che superficialmente mi sembra lontanissimo anche leggendo i tuoi libri. Invece no. Forse Giorgia ha delle idee che vorrebbe discutere con te. Ma io, è una delle cose che ho amato tantissimo di questo romanzo, ma veramente tanto. Ci sono in questo libro delle figure femminili forti, volitive, che nonostante i lutti, le sofferenze, sono protagoniste del loro destino. Mi viene in mente Giovanna. Giovanna è una figura, ma bellissima. Nasce da una madre non ebrea, e però vorrebbe cambiare il suo nome in un momento in cui tutti avrebbero fatto esattamente il contrario. È una donna impegnata politicamente, a sinistra, dedita la famiglia. Poi c'è Sara. Sara che ci viene presentata all'inizio come la piccola dei foa e che studia in un collegio in Francia e torna e si dimostra una persona straordinaria, adotta Giovanna, perché rimane senza padre e senza madre questa ragazzina. Poi c'è la stessa Priscilla. Ecco, quando io ho letto di Priscilla che insieme ad Aaron sono gli ultimi discendenti dei Levi, quelli raccontati ovviamente nel libro, che è una bambina sperduta, una bambina che si trova sotto i bombardamenti, perde la madre, insomma, ma diventa una donna forte, decisa, che prende e va in Inghilterra. Ecco, in quel momento lì ho pensato a lei, Gaia, anche perché è una bambina un po' ribelle, non è una bambina su cui è facile mettergli i piedi in testa, no? Quindi è veramente una figura bellissima. Ecco, in una parte del libro che mi ha affascinato tantissimo, come dicevo all'inizio, perché mi ha fatto rivivere un po' i racconti di mia madre, lei si sofferma sulla condizione della donna nell'opoguerra, che era una condizione complicata nel lavoro, nell'industria, in politica le donne non trovavano proprio posto, ecco, era solo nell'ambito familiare che le donne si potevano realizzare, ma anche lì poi non avevano tanta possibilità di decidere, perché era sempre il maschio che decideva. Ecco, qual è la sua posizione, Gaia, in questo contesto? Cioè, mi chiedo, oggi, oggi la donna, soprattutto in un periodo come adesso che è quello di una crisi e vediamo che le donne sono sempre le prime a perdere il lavoro, cosa ne pensa Gaia? La donna sarà sempre dalla parte più svantaggiata della società? No, perché ormai la donna è molto spesso quella che guadagna, è quella che porta, quella che va al lavoro. Io lo vedo in molti casi, il papà rimane a casa con i bimbi, che diventa un meraviglioso rapporto con il padre, e la donna, la madre, guadagna, è quella che porta a casa il salario, quindi, e si sono fatti dei passi incredibili, c'è stata un'accelerazione, io veramente mi ricordo quando uscire di casa, una cittadina come Parma, uscire di casa da sola, una ragazza, non si può dire anche di giorno, ma insomma era un, mia sorella è Dio, eravamo due ribelli, due sare, diciamo, la donna si fa anche con delle delle punte, delle volte molto poco, diciamo, simpatiche, però si è fatta una grande strada e certo una delle cose più importanti è il guadagno, cioè se l'uomo continua a guadagnare di più, c'è anche il fatto, il fattore che la donna ha un altro lavoro, che è un lavoro importantissimo, che è fare figli, e quindi fare figli prende tempo, energie e anche concentrazione, e quello è un lavoro meraviglioso, è una delle cose più belle che ho fatto in vita mia di tutte le cose belle che ho fatto è avere dei figli, nulla mi ha dato più gioia di avere, adesso sono tre spilungoni, ma la scoperta dei bimbi, ecco, proprio lì nel libro c'è molto, io adoro i bambini, li trovo, perché dicono la verità, perché dicono, perché sono schietti, perché, perché tanto ricasca su di loro, ma tornando poi anche al libro, sui bambini, il bambino in certo senso che soffre, diventa forte, una priscilla che ha sofferto tanto, si scuote alla forza di scuotersi di più della figlia di uno che è stato benissimo e che ha avuto tutto e che si aspetta di tutto, perché c'è anche l'altra cosa che è un dono, diciamo, francamente, nostro, noi non ci aspettiamo, c'è questa, ormai c'è questa, questa cultura dell'aspettarsi che tutto venga da altro, che tutto è colpa degli altri, non so, se non sai il francese perché tua madre non te l'ha segnato, se non quel mercoledì, se invece di uscire, invece ti avrebbero fatto, la tua vita sarebbe cambiata, cioè questo, diciamo la verità, questa malattia dell'ego, dell'io, io credo che noi l'abbiamo molto meno. Volevo farti una domanda, io contraddicendomi un po'. Tu affronti la politica, le ideologie in un modo unico perché io su certe cose della sinistra le detesto, l'ipocrisia, il fatto di raccontare le rivoluzioni come se fossero il bene totale di tutto, poi guardo verso destra e mi dà un fastidio l'ignoranza, la non capacità di volere capire il mondo, non soltanto quello di adesso ma anche quello del passato però ci sentiamo sempre attratti da una posizione che prende parte. Ecco, io invece non prendo parte a niente e forse sarà perché sono un bambino ottantenne ero un po', solo un po' rompivalle ma tu non eri ti eri schierato sul centro-destra e io dicevo no però scrivevo su dei giornali che parlavano di Israele e gli unici dove potevo scrivere quello che volevo erano quelli ah allora non sei di destra no io non sono di destra e non sono di sinistra perché le cose che leggiamo della sinistra a volte fanno orrore non solo pensando al comunismo non sentirsi però senza senza un porto dove fermarsi a me pesa saranno forse gli anni ma mi pesa molto tu invece riesci a dire le cose più terribili sulla sinistra e sulla destra come se arrivassi volando come una libellula non dici niente di terribile non c'è una frase un richiamo appunto alle ideologie che trionfano ancora adesso no tu sorpassi la politica italiana quella del dopoguerra almeno e lo fai con una appunto una leggerezza che è straordinaria perché sei così brava no però condanno molto la politica dopo dopoguerra questa questa enorme democrazia cristiana che si che si forma sul partito fascista in effetti con dei ricordiamoci chi c'era c'era Rumor Andreotti c'era della gente veramente ma Gaia nel PC tanti che avevano cambiato subito giacca sono finiti proprio nel PC anche solo ma certo ma noi abbiamo delle classi politiche non solo in Italia consoliamoci dappertutto terribile anche perché ma chi è che vuole diventare politico solo un pazzo perché intanto devi passare degli esamini di gente dei cretini che ti dicono sì tu puoi diventare deputato solo se dici di sì o a Berlusconi o a Renzi o a questo quello devi fare assolutamente quello che ti dicono non devi avere le tue idee non devi essere onesto e non solo in Italia la malattia della corruzione è dilagata anche in Inghilterra dove una volta devo dire la corruzione c'era perché dove c'è l'uomo c'è corruzione ma ce l'era molto di meno io io sono molto attenta alla politica perché è polis perché perché ci perché ci conduce in un certo senso siamo siamo degli animali che ne abbiamo bisogno pensa a non averla sarebbe un disastro e anzi l'Italia più o meno adesso non è così messa male c'è gente che è messa molto peggio paesi molto peggio ma ci sono anche per esempio a me questa grossa onerificenza del in merito alla Repubblica Italiana me l'ha data la politica mi sono arrabbiato proprio su quello però perché me l'ha data la politica avrei scritto concessami dal Presidente della Repubblica punto Pertini io l'ho detestato da quando aveva quel bambino palestinese sulle ginocchia e nel messaggio che ha mandato a fine anno ha detto appunto che gli israeliani avevano sterminato il suo popolo era una brutta però volevo farti una critica ma anche devo dire sono molto più vicina io ho ammirato molto e tuttora ammiro e tuttora stimo il vecchio presidente napolitano che secondo me è stato un grande presidente è un grande politico con enormi difficoltà e poco riconoscimento e lui mi ha dato questa tra l'altro me l'ha data anche per ragioni musicali perché io ho organizzato questi festival musicali io non ti ho nominato napolitano ma per tini sì no per tini no no per tini me l'ha dato perché anche lì anche lì avevo organizzato delle cose sempre musicali ma il merito c'era è da dove arrivava no ma sai che cosa se tu stai a guardare come dice mia madre diceva il più pulito c'ha la rogna che è una cosa molto romana ma tu riesci a dirlo con una dolcezza e uno quasi non se ne accorge poi lei dice mamma mia cosa ha detto cosa devo leggere e questo è un altro merito del tuo libro grazie io direi di interrompere adesso questi discorsi sperando che abbiano coinvolto i nostri partecipanti poveretti saranno noi atti non credo almeno io ecco volevo ringraziare Astrid che si è messo di buzzo buono perché Gaia è a Londra in questo momento quindi che non è Europa vaccinatissima doppiamente vaccinata ho avuto il covid l'ho avuto bruttissimo devo dire e poi sono stata proprio la mia dottoressa ha detto che sono un miracolo ambulante io darei la parola adesso ai nostri partecipanti prego Astrid Suckti se vuol mettere aperti i microfoni questa domanda che era bellissima e poi chi vuole chiedere qualcosa solo che se apriamo li apriamo e basta rischiamo di avere una voce sopra un'altra se invece qualcuno vuole scriverle ma senza fare dei racconti di breve letteratura c'è un spazio dove scrivere qualche domanda che Astrid ci leggerà quindi Astrid se vuoi liberare i microfoni sì intanto un apprezzamento da parte di Laura de Camis de Fonseca che dice che ha letto il libro e l'ha trovato bellissimo grazie ci ha trovato molte storie parallele di tante altre famiglie ho apprezzato il tuo humor che però si cancella quando veramente la storia arriva molto vicino a te e lo si capisce che belle osservazioni grazie e poi c'è Antonio Donno che dice che comprerà subito il libro anche perché le le recensioni che fa Giorgia Greco su informazione corretta la costringono sempre ad acquistare i libri recensiti grazie anche Giorgia grazie professore lei è sempre generoso con me poi al momento altre allora liberiamo apro l'audio a tutti quindi se qualcuno vuole fare una domanda senza sovrapporsi quindi se qualcuno vuole dire qualcosa beh io vi dico che oggi ho fatto il bacino ah come è andata la prima dose è andata bene come è andata Angelo non ho avuto niente di male sono stato in tutto il tempo un'ora quindi è andato tutto bene adesso tra il 18 marzo farò la seconda la seconda il secondo vaccino e spero che vada bene il mio timore era di trovarmi davanti a uno Sputnik ah allora sarei finito e quale quale ti hanno fatto tu lo sai il vaccino che ti hanno fatto sì certo ma Pfeiffer io lo pronuncio come se fosse un cognome ebraico sì 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 ebbè è il migliore è il migliore il 99% di efficacia posso fare un'ultima domanda Gaia certo siamo qua ne avevo tantissime anche però visto che mi sembra siamo arrivati verso la conclusione in un articolo lei Gaia è stata definita un'esploratrice che si nutre di interessi sconfinati appena terminato di scrivere un libro quali sono i suoi progetti futuri oddio ogni tanto mi chiedo ma perché ho mica tanto tempo per avere dei progetti futuri le dirò io gli ultimi anni no gli ultimi dieci anni ho avuto un grande una grande passione un grande studio sui Fenici sui Fenici quindi sono stata molto molto e speravo tra l'altro di persuadere le autorità siciliane a fare un Palermo come voi sapete è una città felice poi c'è Mozia c'è tutto di fare un centro di studi Fenici con una cattedra di studi Fenici molto internazionale tra l'altro Israele ci sono due o tre fantastici studiosi e i Fenici sono tra l'altro molto vicini agli ebrei pensi che da una parte è Shalom dall'altra parte è Salem la lingua è quasi identica ma a parte questo è una genia maltrattata molto interessante e molto purtroppo hanno scritto poco anche perché scrivevano sulla sulla cera sul legno la cera sopra e la graffiavano oppure sul papiro quindi c'è pochissimo dove ci sono delle lapidi ma scrivevano solo i nomi c'è pochissimo rimasto ci sono i racconti su di loro dei greci che erano i loro nemici numero uno quindi e dei romani naturalmente i romani li stimavano molto più di quanto hanno tenuto dei libri carteginesi tutto sulla botanica sull'irrigazione ma comunque non vado avanti se fai i ricini non interessa a nessuno le dirò no non è vero invece adesso comunque sto facendo sto finendo una cosa un audiobook sulla mitologia la chiamo la mitologia nascosta cioè la mitologia mesopotamica che è un po' è piena di interessi Gaia mi piace moltissimo tutto quel mondo dal quale lasciamo noi tra l'altro e ci sono tutte è una mitologia un po' più rude più belle di quella ellenica ma è la madre di quella ellenica naturalmente c'è una domanda da parte di Sergio di associazione Marco Pannella di Torino Sergio se ci sente volevo chiedere questo io sono molto appassionato della storia del risultamento e appena un po' di tempo vado sempre a cercare dei libri un po' interessanti è una mia passione enorme anche come la popolazione italiana non faceva distinzione tra ebrei e non ebrei questo credo che sia uno dei grandi vatori mi ha molto stupito quando ha parlato di Cavour di questo suo parente nonno o bisnonno ma era il Cavour Camillo Benso perché questo non l'ha chiarito no 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 i genitori l'avevano chiamato Cavour in onore di Cavour come la sorella l'avevano chiamata Italia in onore dell'Italia unita ma questo devo dire con un certo coraggio perché era prima dell'unificazione no io non l'ho era mio nonno ed era io purtroppo non l'ho mai conosciuto perché era stato un uomo molto interessante molto colto con con una biblioteca molto moltissimo di classici in effetti che poi mio padre ha ereditato e io mi ha fatto insomma io ho letto dei bellissimi libri perché c'erano questi libri per casa come al solito i libri ti insegnano moltissimo grazie Antonio Donno voleva parlare intervenire un attimo c'è una voce però che disturba un po' Astrid se riesci a pregare la persona che parla di spegnere il proprio audio no audio sì l'audio di spegnere Antonio posso? certo prego dunque a proposito del termine israelita la ragione Gaia serva Dio adesso sono leggendo in questi giorni un vecchio romanzo ambientato a New York un romanzo pubblicato nel 47 nella New York della fine della seconda guerra mondiale ambientato all'interno della gente bene di New York e quando si incontra effettivamente evita appunto nelle riunioni eccetera evita di parlare di usare il termine ebreo e usa il termine israelita questo è un romanzo di una certa Laura Hobson che si intitava Gentleman's Agreement ed è stato poi tradotto in italiano l'ho trovato casualmente da una casa editrice che si chiama che si chiama Yandi Sapi una casa editrice di Milano che l'ha tradotto nel 48 con il titolo barriera invisibile proprio perché perché gli ebrei rappresentano una barriera invisibile e vengono definiti appunto israeliti quando il discorso cade su di loro cioè raramente ma non si usa mai il termine ebreo nella 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 gente bene che si riunisce alla fine della guerra gente ricca di New York e si riunisce per parlare delle cose delle più varie cose si parla sempre di israeliti posso aggiungere una cosa spinto dal quanto ha parlato di quanto ha detto adesso Antonio sì sarà che io ho visto quel film tratto da quel libro con Gregory Peck sì era un giornalista di un grande giornale new yorkese sì il quale si finge ebreo bravo capire cos'era l'antisemitismo e non era ebreo non era ebreo era un film meraviglioso e poi Gregory Peck a 25 anni 30 anni era anche un bello è un giornalista bravissimo un grande bello anche a 50 anni è un giornalista è un giornalista che si trasferisce dalla California a New York quindi è un giornalista sconosciuto al quale il direttore di un'epista dà l'incarico di fare uno studio sull'antisemitismo a New York e lui si arrabatta in mille modi alla fine scopre il sistema si spaccia per ebreo e va in giro e va in giro il libro è un film meraviglioso un romanzo meraviglioso per canterlo in qualche visto che internet ha anche dei lati buoni se è possibile trovare quel film e vederlo allora se mi permettete io sono un po' volevo solo aggiungere una cosa se vi ricordate a un certo punto scoppia negli Stati Uniti una letteratura ebraica anche portata molto da una da una grande casa editrice Farah Strauss Giù e vengono messi degli degli autori un po' messi da parte invece vengono portati poi c'è Saul Bello e poi un autore importantissimo anche Philip Roth che non si vergogna mai lui israelita non l'avrebbe mai detto lui avrebbe ebreo Brooklyn è molto spiritoso è sempre con quella quel tocco ironico e lui ce l'aveva molto con 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 l'Europa perché per lui l'Europa era antisemita molto più dell'America e in effetti diciamo la verità gli antisemiti americani sono la mia passione se mi date il permesso vorrei terminare questo bellissimo incontro con Gaia Servadio con una notizia triste però la tristezza fa parte anche della felicità della vita è mancato l'altro ieri un grande esperto di antisemitismo forse uno dei più grandi era Giulietta di Utiti Weiss che l'ha sempre tradotto per informazione corretta Gerstenfeld Manfred Gerstenfeld ha vinto dei grandi premi ha scritto dei libri sull'antisemitismo straordinari è morto di anzianità perché aveva 89 quanti anni ma ha lavorato fino al giorno prima quindi avrà avuto un mitos qualche cosa allora noi cerchiamo di onorarlo senza sprecare troppe parole ma con dei fatti facendo ai primi di marzo lo comuniceremo su informazione corretta una specie di passerella con brevi dichiarazioni di tutti gli amici che lui aveva anche in Italia perché lui ha vissuto anche degli anni in Italia viveva a Gerusalemme ma le cose che ha scritto lui sull'antisemitismo saranno eterne perché ci hanno insegnato bene che cos'è per cui se guardate poi su informazione corretta metteremo la link per questa passerella con tanti amici anche israeliani che parleranno chi in italiano chi in francese sarà un ricordo bellissimo perché diventerà un video come anche la conversazione di questa sera con Gaia Servadio da domani a Streetsuk ne metterà il tutto in un video che sarà rintracciabile sia su informazione corretta che anche su tutti i vari siti internet in modo da poterlo vedere e comunicarlo agli amici che se possono collegarsi con questo video sarà semplicissimo e una rara ricchezza del poter parlare a Gaia Servadio noi siamo molto lieti di essere con noi per cui vi ringrazio tutti Gaia vi ringrazio voi e volevo anche dirvi che piacere che gioia è stato avere questa occasione e anche guardiamo al futuro con un sorriso cerchiamo di guardarlo e anche felici in fondo di questa fratellanza e questa nuova cosa che abbiamo trovato di non vergognarci più di quello che siamo che ci avevano inculcato per tanto tempo e questo devo dire lo dobbiamo a Israele bene bello chiudere con questa